Franco Barattini, 56 anni, Carrarese, operatore socioeducativo. Ha deciso di candidarsi col Movimento 5 Stelle per portare voci a chi convive con la disabilità. Uno dei punti del movimento che più lo hanno convinto a impegnarsi era già nella carta di Firenze nel 2009 del nascente Movimento 5 Stelle e prevedeva un piano di mobilità per i disabili, un argomento su cui Carrara è in forte ritardo. Sogna con De Pasquale Sindaco una città che abbia cura di tutti i cittadini. Dove il motto Nessuno deve restare indietro non resti solo un proclama, ma venga attuato per far diventare Carrara una comunità per tutti.